in the Maggima Nikaya. Quindi stasera continueremo con il discorso successivo presente nel Maggima Nikaya. Il secondo sutta è nominato Sabba Savasutta. La traduzione è il discorso riguardante tutte le cose. D-A-I-N-T-S Macchie Difetti mentali Discorso riguardante tutti i difetti mentali. L'asava ha stato tradotto in diverse mani. Generalmente significa defiance. Allora, la parola Asava viene generalmente tradotta in modi differenti, ad esempio col termine inquinanti. E generalmente questa parola significa flussi. In the sense that it flows up to the highest realm of existence and down to the lowest realm of existence. Flussi nel senso che fluiscono dai più alti realm dell'esistenza fino ai più bassi. E spesso viene tradotto col termine intossicanti. Non spesso, ogni tanto. Ogni tanto viene tradotto col termine intossicanti. Non spesso, ogni tanto. Oh, la traduzione di un attenzione tanto. È molto abbia facutato. La traduzione è? La traduzione è? fa riferimento a qualcosa che è inquinato e che è riscontrabile in tutti i livelli dell'esistenza nel samsara. Ci sono quattro asavas. Kama asava, che significa l'attachement, la brama per i piaceri sensoriali o gli oggetti sensoriali. Ditta asava, gli attaccamenti alle errate visioni. Bhava asava, la brama per l'esistenza. Avijjassava, che è l'illusione. Vanno sotto le categorie più ampie di brama, rabbia e rabbia. Vanno sotto le categorie maggiori di brama e illusione o confusione. Queste sono le due radici principali che determinano l'originazione dipendente. Quando ci sono brama e illusione, allora sarà naturalmente presente anche la rabbia. Quindi in questo sutta parla della distruzione di tutti questi inquinanti, difetti mentali. Nel primo sutta abbiamo visto come argomento il sorgere di tutti gli inquinanti. e tratta anche della loro distruzione, ma in questo sutta lo viene definito più chiaramente. E così il Buddha dice ai monaci. Vi darò un discorso, vi insegnerò riguardo al contenimento di tutti i difetti mentali. E vi dico, monaci, che la distruzione degli inquinanti è per colui che è in grado di vedere e conoscere, e non per chi non è in grado di vedere e conoscere. E chi conosce e vede cosa. La saggia attenzione e l'attenzione non saggia. La saggia attenzione e l'attenzione non saggia. Quando uno attenzione e l'attenzione non saggia. Quindi quando attenzione e l'attenzione non saggia, cosa? Si tradiziona e l'attenzione non saggia. Quando uno attenzione e l'attenzione non saggia. L'attenzione non saggia. E l'inquinante sorto aumenta. Quando si presta attenzione saggiamente, quindi un inquinante che non ha ragione di sorgere, che non è ancora assorto, non sorge. E l'inquinante che è assorto è abbandonato. E quindi, o monaci, ci sono inquinanti o difetti mentali che devono essere abbandonati. Grazie alla visione. Grazie al contenimento. Grazie all'uso. Grazie all'evitamento. Grazie alla rimozione. E grazie allo sviluppo. E grazie al perdurare. Quindi sono sette. E quindi qua viene spiegato che cosa si intende per saggia attenzione. Allora, saggia attenzione è la traduzione per Ioniso Manasikara e Aioniso Manasikara. Allora, per la parola Ioniso Manasikara e Aioniso Manasikara è la traduzione. perché la traduzione è la traduzione non è la traduzione, perché la traduzione non è la traduzione. più appropriata perché non corrisponde esattamente alla saggezza in quando in quanto la saggezza è solo un qualcosa che viene coinvolto quindi suggerirei piuttosto un'attenzione abile e si riferisce a come la mente tenda all'oggetto manasikara è uno stato mentale che ha una funzione importante nel modo in cui ci rivolgiamo all'oggetto nell'osservazione nell'abidamma manasikara viene descritto in tre modi uno è come stato mentale cetasica l'altro è il processo di rivolgimento possiamo dire sì e il terzo modo è come si reagisce e si risponde all'oggetto in termini di stato mentale è lo stato mentale che permette il sorgere di determinati oggetti prendiamo ad esempio la televisione o la radio l'altro 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 Many, 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 many Officially Officially, six or seven I really don't know You know? Not that much Not that much How about radio? I suppose Oh, radio, I don't know as well Help, help You're very ill-informed people Qualcuno sa quanti canali televisivi O quanti stazioni radio abbiamo in Italia Right, uno, right, due Quegli ufficiali Let's say 50, 100 Okay More or less So anyway You want to turn to which channel Allora, vogliamo Insomma, vogliamo rivolgerci ad uno di questi canali Ad esempio, volete ascoltare o vedere il football Soccer Su che canale vi posizionate? Quale canale accendete? Which canale? Sport Vipassana Meditation The channel? Not yet present Sorry E quindi il canale della vipassana E io ho detto che ancora non c'è Purtroppo I think church They have channel The church Ah, yes Radio Maria For the radio, Radio Maria covers It's like Once I was trying to listen to the Italian radio To learn Italian Which one? I try to listen to the Italian radio To learn Italian Ah, to learn Italian Ok Quindi Ho provato ad ascoltare i canali radiofonici italiani per imparare l'italiano E quindi ho acceso la radio Ma c'era questa cronaca sportiva della partita di calcio Impossibile Impossibile da seguire Because it's talk like machine gun No Let this ball go left to right I said How to understand anything It's not possible Then I came across another channel about this catholic E poi sono capitato su un canale cattolico So during that time There was this talk between the priest and the And the old lady And the old lady Ah, ok E quindi Poi sono capitato su questo canale radiofonico religioso E in quel momento c'era un prete che stava dialogando con una signora I can understand something The lady was saying I pray every day I pray in the morning I pray here I do this to pray I pray, 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 pray And all the priest had to say was Brawa, 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 brawa E quello che sono riuscito a comprendere Che c'era questa signora che continuava a dire Quanto pregasse tutto il giorno Di qua e di là pregò in questo momento In quell'altro E il prete che continuava a incalzarlo Dicendo brava, brava E Manasikara è questo È rivolgersi verso un canale Piuttosto che un altro E allora così sorgono gli oggetti E quindi le altre due funzioni di Manasikara Una è il rivolgersi Quindi il rivolgersi verso l'oggetto E questa è la coscienza di rivolgimento Quando appunto si rivolge Verso l'oggetto Alla porta sensoriale E il terzo è la risposta e il risponso della coscienza all'oggetto E quindi se è You said awesome or an awesome Se è salutare o non salutare Ad esempio vedete qualcosa di bello Di piacevole Allora sorge la Brahma E quello significa che era non salutare Ma se state osservando il salire e lo scendere dell'addome Sorge la consapevolezza Allora quello è salutare E quindi Manasikara svolge un ruolo importante Nel far rivolgere la mente all'oggetto E il modo in cui risponde all'oggetto Quindi in brevemente si può dire che ci sono due aspetti Rivolgersi all'oggetto oppure scegliere l'oggetto E quindi è un po' come essere al volante Guidare a volte si gira a destra A volte si gira a sinistra E il secondo riguarda non solo il rivolgersi verso l'oggetto Ma anche che cosa accade alla mente nel farlo E anche chi e cosa sta rivolgendo all'oggetto E quindi qualcosa che fa rivolgere e girare Può essere un altro stato mentale Che aiuta il guidatore a girare di qua o di là Ad esempio All'inizio volete andare ad un ritiro di meditazione a Pian dei Ciliegi E quindi è uno scopo estremamente corretto E quindi selezionate e impostate sul navigatore per poter arrivare qua E quindi guidate in accordo con la direzione data E poi c'è un negozio Dove vendono le patatine Ah ok ho capito adesso Un negozio dove c'è la svendita, i saldi E c'è lo sconto del 90% che ci attira E quindi ci vogliamo fermare lì per un po' E in questo caso siamo guidati dalla Brahma E quindi come possiamo vedere Il rivolgersi è condizionato da varie condizioni E quindi ciò che consideriamo saggio o abile dipende da ciò che accade E qua è chiaro che nel momento in cui gli inquinanti sono sorti Sono anche aumentati E in questo caso significa che si tratta di un'attenzione non abile Se invece gli inquinanti già sorti tendono a diminuire Allora in questo caso si tratta di una saggia o abile attenzione Altrettanto se gli stati mentali salutari che sono sorti tendono a diminuire Si tratterà di un'attenzione non abile Si tratterà di un'attenzione non abile Se invece gli stati mentali salutari che sono sorti tendono ad aumentare Si tratterà di un'attenzione abile E quindi questa è una chiara indicazione di cosa si intenda per attenzione abile o non abile E quindi lo scopo principale sarà l'abbandono di questi stati mentali non salutari E ora veniamo al primo caso Quali stati mentali dovrebbero essere abbandonati grazie alla visione? E ora direi Quindi qui una persona non addestrata, che non ha ricevuto quindi un addestramento, non comprende quali cose sono fit for attention, che cosa non ha dato per attenzione. Quali cose sono adatte per l'attenzione e quali no. E per questo rivolge l'attenzione a quelle cose che non vanno bene per l'attenzione, no, che non vanno bene per l'attenzione e non la rivolge a quelle che vanno bene per l'attenzione. Allora in questo caso si fa riferimento alla scelta dell'oggetto. E quali sono le cose non fatte per l'attenzione, non adatte per l'attenzione. Quelle cose alle quali rivolgendo l'attenzione sorge la brama, you said craving and... la brama sensuale arises and increases. Quindi quelle cose per cui sorge e aumenta la brama sensuale. lo stesso accade per gli stati mentali legati alla brama per l'esistenza. e gli stati mentali dell'ignoranza. sensuale di vita e aumenta la brama sensuale. E' un'attività di essere e aumenta la brama sensuale. qui si sono dimenticati la parte sulla errata visione. Comunque. E quali sono le cose adatte per la visione? per l'attenzione. Per l'attenzione. Un desiderio sensuale non sorprende. Un desiderio sensuale non sorprende. No, sì, sì, ok. Quindi uno stato mentale... Sensual desire non ancora sorge, non sorge. Quindi uno stato mentale rivolto a un desiderio sensoriale che non è ancora sorto, non sorge. E il desiderio sensoriale sorto è abbandonato. E lo stesso accade per la brama, per l'esistenza, l'illusione e le errate visioni. E così prosegue e questo è un discorso in cui si parla appunto se ci si stia rivolgendo al giusto oggetto. E vedete, l'oggetto può sorgere in base alla vostra scelta oppure non in base alla vostra scelta. Generalmente, in senso più ampio, possiamo scegliere. Ma ci sono molte cose che sorgono all'inizio e non possiamo scappare da quelle. Ad esempio, ci sono cose che sorgono da cause kammiche. E se sono molto forti, vi seguiranno finché non morirete e anche dopo, senza darvi pace. Ma questo non significa che non ci si possa fare niente al riguardo, ci si può ancora fare qualche cosa. Ma a volte è possibile scegliere gli oggetti. Ma se si sceglie in modo sbagliato, poi si finisce nei guai. Questo appena a vita mondana, a vita di tutti i giorni, che a vita meditativa. Quindi, si potrebbero dire molte cose al riguardo, ma non dirò più di tanto. Ad esempio, riguardo alla scelta del partner, del compagno o la compagna. E ho letto un libro thailandese di questo monaco thailandese che tiene discorsi per i giovani. E dice, se sposi un ragazzo, ne piangerai. Se sposi una ragazza, non puoi essere un monaco. Si tratta di un buon suggerimento. La sostanza è, non fatevi coinvolgere, andate a meditare. Ma è comunque il suggerimento di un monaco. Che cosa vi aspettavate? Ma, tuttavia, si tratta di un'attenzione abile o saggia. Ma si ha a che fare con istinti davvero primitivi, primordiali. E ovviamente qui nei discorsi non è che si parlasse più di tanto di queste cose, perché stava dando dei suggerimenti ai monaci. E parla di più riguardo alla meditazione. Still, no, generally it includes all objects, but in a monastic life or a monastic environment, a lot of sensual objects are reduced. E parla di tutti gli oggetti che possono essere inclusi, facendo però riferimento all'ambito e alla vita monastica, dove gli oggetti sensoriali sono comunque ridotti. But still, the first thing that, objects that come to the mind will be this, sense objects, because he has to open the eyes. he has to open the ears to listen. So you cannot avoid. Ma certamente i primi oggetti con cui avere a che fare sono quelli sensoriali, perché bisogna aprire gli occhi, aprire le orecchie, ascoltare. E non lo si può evitare. A meno che il one that goes into the cave and locks himself in the cave for five, ten years. A meno che voi non andiate in una grotta e vi rinchiudiate lì per un po' di anni, una decina d'anni. ma non è una cosa per tutti che possano fare tutti perché può essere che quando poi riaprano la grotta si sia andati fuori di testa. quando ci sono gli oggetti sensoriali c'è sempre una possibilità di piacere sensoriale. ma generalmente in un centro di meditazione questo è alquanto evitato, ma ancora possono sorgere. e questo è il motivo per cui in Asia c'è una divisione gli yogin uomini in una casa e le donne in un'altra. che non ha niente a che fare con una discriminazione sessuale. ha piuttosto a che fare con il controllo degli istinti primitivi. comunque no, ve lo dico perché conosco casi in cui persone sono andate a fare ritiro di meditazione per cercarsi la ragazza. ma in gli altri temi come la creazione per l'esistenza di delusione e di wrong views si succedono a una porta di mente. ma per quanto riguarda gli altri difetti mentali come la Brahma per l'esistenza e l'illusione e le errate visioni queste occorrono accadono alla porta della mente. come accadono? per quanto riguarda le errate visioni accadono attraverso l'incontro con persone che hanno errate visioni. per quanto riguarda l'illusione e l'illusione e confusione mentale oppure la Brahma per l'esistenza ha a che fare con qualcosa di molto primitivo nella mente. e quindi dipende da quali oggetti prendiamo in considerazione e da cosa pensiamo al riguardo. prendiamo ad esempio il fatto che in meditazione ci siano differenti tipi di oggetti. e quindi ad esempio nei due tipi di meditazione di Samatha e di Vipassana in entrambi i casi ci sono gli oggetti. e se cercate di fare la Vipassana utilizzando gli oggetti di Samatha è improbabile che riusciate a far sorgere la Vipassana. e se cercate di fare la Vipassana utilizzando gli oggetti di Samatha è improbabile che riusciate a far sorgere la Vipassana. e anche nell'ambito della Vipassana sono presenti svariati tipi di oggetti, alcuni più adatti e altri meno. per esempio Masi ha dato una lista di oggetti che non sono suitabili per la Vipassana e quelli che sono suitabili per la Vipassana, soprattutto in termini di iniziati. lo stesso Masi ha dato un elenco, una lista di oggetti più o meno adatti nella Vipassana in particolare riferite ai principianti. ad esempio gli oggetti molto sottili e che rendono più difficile il discernimento sono annoverati tra quelli che non sono adatti per i principianti. anche tra quelli che sono considerati più adatti ce ne sono alcuni che lo sono di più rispetto ad altri e questo avviene anche in funzione del temperamento del meditante. ad esempio nella Vipassana ci sono i quattro fondamenti della consapevolezza se ognuno di questi ha il proprio tipo di oggetti. e nel commentario a Satipattana si dice che ognuno di questi differenti oggetti riferiti ai fondamenti può essere più adatto per un tipo o per un altro di temperamento. ad esempio la meditazione sugli oggetti sulle sensazioni è adatta per i tipi con Brahma. significa che queste persone hanno un temperamento con Brahma e ottundimento. per i tipi con Brahma. Non è curioso, non è curioso. Non è curioso, non è curioso. Criving and sharp. per coloro che hanno un temperamento intelligente possono addentrarsi negli oggetti di Dhamma Nupassana e cose di questo tipo. Allora, generalmente si parte dal fondamento di Kaya Nupassana, quindi nel corpo, perché sono oggetti più evidenti da seguire, più grossolani e anche le persone con un temperamento più tendente all'ottundimento riescono a seguirli. Da qui, dopo aver avuto questi esercizi basi, uno saprà il tipo di temperamento e mente del praticante e una volta esercitatisi su questo tipo di oggetti, allora sarà possibile riconoscere il temperamento del praticante e indicare e suggerire altri tipi di oggetti. Ma generalmente è necessario addestrarsi in tutti e quattro i fondamenti della consapevolezza per avere progresso nella pratica. Nella Samatha invece c'è ancora più varietà perché ci sono svariati tipi di oggetti. ad esempio si può parlare della concentrazione sui differenti tipi di colori e a seconda del temperamento dei praticanti saranno più adatti taluni o altri colori. Quindi all'inizio sarà l'insegnante ad aiutarvi maggiormente ma con l'avanzare, il progredire della pratica, ognuno lo farà da sé perché ognuno conoscerà meglio la propria mente. Ci fermiamo qui stasera. Ci sono domande? Ci sono domande in natale.